Ciao, benvenuto in questa nuova puntata ancora dedicata al concetto di educazione. Oggi voglio affrontare questo concetto dalla prospettiva del virtuale. In post precedenti abbiamo analizzato il fatto che il verbo avere è il verbo della modalità virtuale, il verbo che più piace a coloro che sono identificati nell'illusione, nella virtualità. Perché è il verbo che indica il possedere le cose, gli oggetti, una quantità. Quindi il verbo avere rappresenta appunto questa realtà virtuale. Che cosa succede dal punto di vista dell'educazione? Che nel momento in cui si ha qualcosa e comunque qualcosa che sia conforme a quello che è il sistema operativo che ci è stato installato e quindi tutti i software che si sono aggiornati via via nella nostra vita, il possedere indica anche avere delle caratteristiche e soprattutto avere un ruolo all'interno della virtualità. Quindi l'attaccamento maggiore che si può avere all'interno della virtualità è l'immagine di sé che viene proiettata, ossia il ruolo che si ha all'interno della virtualità. E diciamo che questa forma di attaccamento è una sorta di peso, è un fardello, perché tutto ciò che ha peso ha rilevanza sociale, ha peso appunto un fardello per tutto ciò che invece viene identificato nel mondo dell'essere. Il mondo dell'essere ha bisogno di esplicarsi in questa dimensione liberamente perché il mondo dell'essere è la libertà e questi appesantimenti, questo avere impedisce molte volte la possibilità di espressione all'interno di questa virtualità. Che cosa fa l'educazione? L'educazione è lo strumento, abbiamo detto che è lo strumento della virtualità per determinare una sorta di immobilismo e cristallizzazione dell'informazione. Perché quando si ha qualcosa, si possiede qualcosa, tenendo conto che è tutto virtuale, si possiede un'illusione e ci si identifica in quell'illusione stessa. Per cui l'educazione porta a credere nell'illusione, a identificarsi nell'illusione e a creare attraverso il sistema operativo che c'è stato installato alla nascita affinché si potesse entrare nella materia, entrare a conoscere la virtualità, attraverso questo sistema l'educazione che cosa fa? Crea tutta una serie di filtri attraverso i quali si può vedere la realtà virtuale. crea anche separazione, crea anche divisione perché vediamo che ci sono atteggiamenti per esempio educativi che mirano sostanzialmente alla competizione. L'educazione come strumento della realtà virtuale crea una serie di filtri attraverso i quali le informazioni devono passare e quello che poi viene strutturato all'interno della nostra mentalità è il giudizio sulle cose, sulle persone e sugli sentimenti e sulle emozioni. Quindi è tutto filtrato attraverso questo strumento che di volta in volta cerca di cristallizzare le informazioni nel mondo della virtualità, cioè nel concetto di avere e possedere. Che cosa succede? Perché noi creiamo questa sorta di identificazione nella realtà virtuale sapendo che noi stiamo proiettando la nostra realtà? Com'è possibile? Facciamo finta di prendere uno specchio e metterlo dietro la nostra testa. Vedremo la proiezione della proiezione, il riflesso del riflesso e quindi vedremo un mondo abitato da tante parti di noi, completamente scomposto, completamente diviso ma se noi utilizziamo questo specchio che è posto dietro di noi per guardare la realtà virtuale abbiamo messo tra noi e la realtà virtuale tutta una serie di filtri e di parametri che non permetteranno più l'azione diretta nella virtualità. Questi filtri che sono stati inseriti tra noi e la virtualità sono filtri che servono per mantenere una sorta di immobilismo, per evitare il cambiamento perché nel momento in cui tu ti vedi frammentato in questo modo ti disperdi all'interno della virtualità, vivi in un mondo diviso, vivi in un mondo che ha bisogno di regole perché tutti questi pezzi di sé hanno bisogno di organizzarsi per ritrovare l'unità all'interno della virtualità e quindi nascono le strutture di potere, le strutture gerarchiche, tutto ciò che governa la virtualità legato sempre al concetto del verbo avere. Si diviene schiavi dei propri possedimenti. Ma allora pensiamo anche a questa sorta di ingordigia da parte dell'uomo identificato nello specchio di sé stesso perché l'uomo identificato nello specchio di sé stesso poi va ad accumulare cose che sono di per sé morte, sono illusioni della realtà virtuale, quindi non sono vive, non sono la vita, sono oggetti. Perché l'uomo va alla ricerca di questi attaccamenti, alla ricerca di questi oggetti? Perché nel momento in cui si identifica nella realtà virtuale ha paura della perdita di questa situazione, di questo immobilismo, di questa condizione, di questo che la perdita di questa condizione lo porterebbe ad un cambiamento di stato, alla rottura dello specchio che si è posto dietro la propria testa attraverso il quale guarda la realtà. Rompendo quel filtro, egli morirebbe a sé stesso, cioè morirebbe alla propria, come si può dire, frammentazione e ci sarebbe un rapporto one to one con sé stesso. Un rapporto one to one con sé stesso significa, in fin dei conti, che tutto ciò che è il mondo dell'essere, vivendo l'esperienza e facendo il fare all'interno della virtualità, può evolversi. Quindi l'uomo che vive con un'educazione che funge da strumento della virtualità e si identifica nella virtualità stessa, è un uomo che non può evolvere, non può uscire da questo schema, non può uscire dal sistema operativo, perché la sua modalità di acquisizione di informazioni, di dati, è legata al verbo avere. Io devo avere informazioni da qualcun altro e qualcun altro me le deve dare. E questa è la funzione dell'educazione. Chi invece vive nel mondo dell'essere, non pensando al possedimento, al possedere le cose, sa di essere immortale, sa che le cose sono animate dalla propria vita, l'oggetto ha una funzione, si sposta, si muove nello spazio e nel tempo, perché è la vita che lo usa per fare questo. L'oggetto di per sé è morto. Il possedere le altre persone, il possedere, l'avere, l'accumulare, l'attaccarsi a determinate cose, significa aver paura della morte che porta al cambiamento, perché la morte, la comprensione della morte da parte dell'uomo che vive nell'essere e che il suo parametro e la sua modalità è essere, la morte gli serve per la comprensione, la morte è solo cambiamento di stato. Questo l'abbiamo già visto in post precedenti, che sono legati al concetto di compassione, al concetto di compartecipazione. L'uomo che vive nel mondo dell'essere non ha bisogno di educazione. Egli si pone in relazione con le altre parti di sé, che sono gli altri esseri umani, complici del suo atto di volontà all'interno della realtà virtuale e realizza il suo progetto di integrazione coscienziale. Ciao, al prossimo post! Ciao, al prossimo post!